blocca contatto e starai meglio perché il problema è la gente cari amici ebbene sì sono tornato solo il sindaco merdius del movimento intestinale sono tornato dopo che ho visto che berlusconi era tornato l'ho detto qualche fa scivono torno alla ribalta ebbene sì la mia proposta per domani alle urne alle urne mi raccomando andiamoci a ste urne è quella di votarmi e poi fare un bel evento collettivo di ribellione verso questo scatafascia a cui stiamo assistendo ormai da anni e non si ferma più veramente e quindi come simbolo del movimento intestinale la nostra ribellione verrà agita in una grande diarrea collettiva in cui tutti quanti esprimeremo il nostro malessere attraverso questo movimento intestinale che ormai e ha raggiunto il culbile speriamo che il nostro messaggio arrivi arrivi per cambiare questa società che è finita nella merda e noi o gli daremo il colpo di grazia oppure qualcosa accadrà io non lo so comunque vota 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 il sindaco merdius domani mi raccomando ti ho dato qualcuno da votare all'ultimo secondo sono sbucato così ciao